Allora, ieri ci eravamo lasciati col problema del piastrellamento. Il problema del piastrellamento ci diceva che abbiamo un bagno che dobbiamo piastrellare, che è lungo n, e abbiamo a disposizione due tipi di piastrelle, la piastrella 1x1 e la piastrella 1x2. E vogliamo contare in quanti modi diversi possiamo piastrellare il bagno in modo che sia tutto piastrellato e che le piastrelle non si sovrappongano una con l'altra. Una cosa che ho dimenticato di specificare ieri, che però specifico adesso, è che cosa conta come piastrelle elementi diversi? Conta anche l'ordine, conta non solo il numero di piastrelle di un tipo o dell'altro, ma conta anche in che ordine le mettete. Quindi, ad esempio, se dobbiamo piastrellare un bagno da tre, ci sono tre modi. Ci sono tre modi e sono... faccio i tre piastrellamenti così poi li coloro. Ecco qua, quali sono questi tre modi? Beh, possiamo piastrellarla con tre da uno, possiamo piastrellarla con uno da uno e uno da due, e poi possiamo piastrellarla con uno da due e uno da uno e sono tre e non ce ne sono altri. Bene, come risolviamo questo problema? Prendiamo l'approccio che ci siamo detti ieri, ovvero vogliamo creare una funzione, una certa f di n, che ci dà la soluzione di questo problema, che ci dice in quanti modi possiamo piastrellare un bagno lungo n. Prima cosa che facciamo quando cerchiamo una soluzione è trovare il caso base. Il caso base sono quelle istanze che sono talmente semplici che sappiamo rispondere istantaneamente, che sappiamo rispondere arbitrariamente, sappiamo calcolare la risposta a mano. In questo caso, quali potrebbero essere questi casi base? Va, ad esempio, in quanti modi possiamo piastrellare un bagno lungo zero? Questa domanda è magari un po' filosofica, ma in combinatoria, in tutto il calcolo combinatorio, quando ci chiediamo in quanti modi possiamo mettere in ordine, possiamo fare qualcosa sul nulla, su zero, la risposta è uno. C'è solo un modo di agire sul nulla, ovvero quello di non fare nulla. In quanti modi possiamo mettere in ordine zero elementi? Uno, cioè non facendo niente. Ripeto, questa qua è una cosa un pochino più filosofica che una matematica, però effettivamente i conti tornano, in tantissimi casi i conti tornano quando gestiamo il caso zero con uno, cioè in quanti modi possiamo fare zero cose? Uno. Ok, e vediamo se ci basta questo caso base. Quello che vogliamo trovare ora è invece il passo generico, ovvero vogliamo trovare la ricorrenza generale per un bagno di dimensione arbitraria. Una tecnica che possiamo usare è sempre quella del abbiamo una serie di mosse che possiamo fare, le mosse in questo caso sono mettere una piastella da uno, una piastella da due, una serie di mosse che possiamo fare e una tecnica in generale è provare a fare tutte le mosse, se abbiamo un'istanza e proviamo a fare una di ogni mossa e vediamo cosa succede. Ad esempio, se io ho il mio bagno lungo n e dico voglio mettere una piastella da uno, voglio assolutamente mettere una piastella da uno. E quindi cosa faccio? Metto una piastella da uno. Ok, a questo punto, assumendo che ho messo una piastrella da uno, ok, ho fatto questa scelta, quale sarà? Quanti saranno i modi di piastrellare questo bagno fissato il fatto che la prima piastrella l'ho messa da uno e quindi voglio sia quella? Beh, sarà, avendo detto che f calcola in quanti modi possiamo piastellare un bagno lungo n, noi uno l'abbiamo fissato, allora cosa sarà? Sarà f di n meno uno. Perché una posizione l'abbiamo già decisa che la piastrellavamo così. Ehm, vogliamo piastrellare il resto del bagno, ma in quanti modi possiamo, quanti modi ci saranno che piastrellano il bagno mettendo come primo quello da uno? Beh, ce ne saranno f di n meno uno, perché poi ci sono tutti gli altri modi di piastrellare il resto del bagno. Però non è l'unica scelta che possiamo fare, non è detto che dobbiamo per forza mettere nella prima piastrella una piastrella da uno. Sicuramente, essendo che dobbiamo piastrellare tutto quanto il bagno, nella prima piastrella dovremmo mettere o una da uno, che quindi la copre, perfetto, oppure una da due che copre quella e quella dopo. Ma una di queste due scelte la dobbiamo fare, non abbiamo altre scelte, dobbiamo per forza piastrellare questa, questa, questa porzione. Allora, questa era la prima scelta. La seconda scelta che possiamo fare, uso il, questo qua sopra, sempre lungo n anche lui. Ok. L'altra scelta che possiamo fare è mettere la piastrellata da due. Ma se mettiamo la piastrellata da due, stesso ragionamento di prima, in quanti modi possiamo piastrellare questo bagno dicendo che la prima piastrella deve essere da due? Beh, saranno F di n-2, perché ho ancora n-2 piastrelle per cui decidere come le voglio fare. Ma abbiamo altre scelte, possiamo fare altre scelte adesso? No. Dovevamo per forza nel primo posto libero, dovevamo mettere o una da uno o una da due. Non ci sono altre scelte, non possiamo fare altro. E allora abbiamo esaurito lo spazio delle possibilità. Cioè nel senso, tutto quello che potevamo fare l'abbiamo fatto. Ma allora cosa vuol dire? Che il numero di modi in cui possiamo piastrellare un bagno lungo n sarà il numero di modi in cui lo possiamo piastrellare, assumendo che mettiamo una piastrellata da uno o una prima posizione, più il numero di modi in cui possiamo piastrellare, mettendo come prima piastrella una da due. Ma allora F di n sarà F di n-1 più F di n-2. Ok? Ci basta? Ci basta? Boh, proviamo. Proviamo a calcolare. Quindi cancelliamo qua. Ok. La cosa bella è che poi una volta che abbiamo la ricorrenza possiamo provare a calcolare un valore, per esempio F di n-3. F di n-3 cosa sarà? Sarà F di n-2 più F di n-1. E qua non li conosco a valore di queste due funzioni valutate in 2 e in 1. Cosa faccio? Ricorro. Calcolo F di n-2. Cosa sarà F di n-2? Sarà F di n-1 più F di n-0. Ma F di n-1 la conosco? No. Calcoliamola. F di n-1 cosa sarà? Sarà F di n-0 più F di n-1. E qua ci accorgiamo che c'è qualcosa che non va. Perché non ha senso piastrellare un bagno lungo-1. Questa cosa non ha senso. E quindi qua ci accorgiamo che qualcosa non va e chiediamoci cosa ci sia che non va e come sistemarlo. Allora, a volte, quasi sempre in realtà, il motivo per cui ci escono cose assurde come questa è perché in realtà non abbiamo beccato tutta la classe dei casi base. Cioè, magari, magari ci siamo persi dei casi che erano semplici da risolvere e che quindi non fanno parte dell'idea generale che ci siamo detti qua. Ma qual era l'idea generale? L'idea generale era che abbiamo il bagno, ok, lungo n, ok, bagno lungo n, e abbiamo fatto il caso in cui fissiamo la prima e in cui fissiamo prima e seconda mettendo quella da 2. Ma cosa stiamo assumendo implicitamente in questo? Stiamo assumendo implicitamente che n deve essere maggiore o uguale a 2. Perché se n non è maggiore o uguale a 2, non possiamo mettere la piastrellata a 2. Non possiamo piastrellare un bagno lungo 1, per dire, con una piastrellata a 2, perché sforiamo. Quindi abbiamo fatto una ricorrenza generica. Però non è veramente... cioè, è generica per un n da un tot in poi. Ma questo cosa vuol dire? Che tutti i casi con un n minore di questo bound, minore di 2, dobbiamo gestirci le mano. Perché in realtà non sono tanti. Perché quali sono gli n possibili minori di 2 è naturale. Ci sono 0 e 1, quindi in realtà sono solo due case che dobbiamo gestire la mano. Però, nonetheless, dobbiamo gestirci le mano. Perché il nostro ragionamento funzionava solo per n maggiore o uguale a 2. Se no, non ha senso quello che stiamo dicendo. Allora, cosa facciamo? Dobbiamo aggiungere dei casi base. In questo caso ce ne basta aggiungerne uno. Dobbiamo aggiungere il caso base di f di 1 uguale a qualcosa. E lo facciamo a mano perché è abbastanza piccolo. In quante volte possiamo pestrellare un bagno lungo 1? Beh, 1. Possiamo solo mettere una pestrata da 1. Non possiamo fare nient'altro. Ora, a questo punto che abbiamo gestito tutti quanti i casi base, ok? Perché questo qua vale solamente per n maggiore o uguale a 2. Qua abbiamo 1 e 0 che sono gli altri. Possiamo riprovare. Quindi f di 3 sarà ancora f di 2 più f di 1. F di 2 sarà ancora uguale a f di 1 più f di 0. Però a questo punto sia f di 1 che f di 0 sono dei casi base. Quindi questo è uguale a 2. Quindi sappiamo che f di 2 vale 2. F di 1 sappiamo che vale 1 perché è un caso base. Quindi ci sono 3 modi. E effettivamente l'avevamo visto che c'erano 3 modi di piastrellare un bagno da 3. E con questo abbiamo trovato la ricorrenza del piastrellamento del bagno usando quei due tipi di piastrelle. Questo qua l'avevo dato come esercizio ieri. Domanda. Qualcuno ha trovato, qualcuno ha... Cioè qualcuno ci ha pensato, qualcuno ha trovato questa stessa soluzione per questo qua? O qualcuno ha trovato qualche altra soluzione? Ma non è venuto così. Allora, uno alla volta... Parte, perché io non vi vedo, io non vedo i nomi. Di quelli che hanno parlato parte quello, tanto voi vedete, quello che ha il... che è più in alto nell'elenco? Ho detto che l'avevo fatto nello stesso modo. Ok, perfetto. Poi, altra persona? Anche io, come lui. Ok, perfetto. Bene, 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 bene. Ora passiamo alla versione un pochino più hard, tra virgolette. In realtà non era così tanto più hard. Che era quella invece di... Non abbiamo solamente le piastrelle da 1 e da 2, ma abbiamo tutte quante le piastrelle disponibili. Da 1 a 1, 1 a 2, 1 per 3, 1 per 4, 1 per 5, fino a 1 per numero arbitrariamente grande. Ok, facciamo così, almeno così è un pochino più ordinato. C'è qualcuno che l'ha pensata e vuole descrivere la sua soluzione. In tal caso, scriva tipo io sulla chat e così scelgo chi in caso ci sia più di una persona. Spero di essere sulla chat giusta. Ok, va bene, visto che c'è solo un candidato. Luca, prego. Luca? Sì. Allora, avevo fatto come nella risoluzione di questo esercizio alcuni casi base. Avevo calcolato a mano l'1, il 2, il 3 e anche il 4, che erano relativamente piccoli. Ok. Mentre per il 5 ho usato un metodo diverso e quindi mi sono messo a calcolare prima i casi in cui si parte con quello da, il blocco da 5, poi quello da 4, quello da 3. Quindi si nota che per una f di n, quindi in questo caso n uguale a 5, si ha subito un primo caso che è quello del blocco di lunghezza proprio 5. Poi di lunghezza 4 invece ci sarà, se si parte con quello di lunghezza 4, il numero di casi sarà il numero di casi anche di f di 1, perché c'è un blocco solo rimanente. Quando invece si parte con quello da 3, c'è il numero di casi di f di 2. Ok. Quindi f di n è uguale alla somma di tutti gli f di un numero minore di n. quindi, sì, sommatoria di sotto i, quindi uguale a 0, no, 1, fino ad arrivare a n, di f di n-i. Allora, ok, è il caso base? Ben detto che avevi fatto i casi base fino ad n uguale a 4. In realtà secondo me non serve veramente, forse, adesso poi lo vediamo, ma secondo me basta il caso f di 0 uguale a 1. Sì, in realtà basta, l'avevo fatto solo perché almeno avevo più chiaro come svolgere il problema. Ok. Va bene, allora vediamo, ok, vediamo un po'. Allora, quindi l'idea da quanto ho capito è, se io ho un bagno lungo n, ok, possiamo riprendere l'idea di prima e dire, io una piastrella sul primo blocco ce la devo mettere, per forza di cose, non posso fare altrimenti. In questo caso ho tante piastrelle che ci posso mettere, non è solo la 1 o la 2, ce ne ho una marea. E quali ho allora? Beh, ho quella 1 per n e in quel caso poi, ok, ho per esempio quella 1 per n e poi se ci metto quella 1 per n non ho più bagno da piastrellare. Oppure ho quella n-1 e se metto quella n-1 poi c'ho 1 per piastrellare. Oppure ho quella n-2 e in quel caso 2 per piastrellare e così via. Quindi qual è l'idea? Stessa di prima, io faccio, io guardo quali sono tutte quante le scelte possibili e in questo caso ci sono n scelte, n-1 scelte, ci sono n-1 scelte direi perché non esiste la piastella da 0. Però c'è, ok, da 1 a n sono n, perdono, ci sono n scelte, dalla piastella da 1 a 2, da 3, da 4 fino a n e per ognuna di queste se io fisso quella poi posso riportare il problema a un problema più semplice, come ci siamo detti ieri, cioè un problema più piccolo. E allora quali sono le scelte che posso fare? Posso mettere quella da 1, quella da 2, quella da 3 eccetera eccetera. Ora, l'unica cosa che cambierei qua, che è indifferente, invece di fare f di n-i, giusto per avere un altro ordine, ma facciamo f di i, così almeno non dobbiamo fare sottrazioni. E cosa faccio? Quindi metto la, però diverso perché, ok, cioè va bene, n-i andava bene, f di non va bene perché così i numeri vanno da, se io è uguale a 1 arriva fino a n-1, se io è uguale a n fa 0. Se io invece metto f di i, va da 1 a n, quindi è diverso. Quindi possiamo o tenercelo così, oppure, giusto per girare comunque, lo possiamo mettere come, e questo è veramente equivalente, lo possiamo mettere come f di i, e poi cambiamo i limiti dell'indice, facciamo che i, invece di andare da 1 a n, va da 0 a n-1. Ok, e così è effettivamente equivalente. Perfetto. Ora, cos'è questo? Questi sono, questi sono le lunghezze dei bagni che mi rimangono mettendo una certa prima piastrella. Se io uguale a 0, il bagno che mi rimane da piastrellare è quello lungo 0, e quindi qual è? È la scelta nel caso ho messo la piastrella lunga n. Se metto la piastrella lunga n, e beh, la scelta che devo fare dopo è piastrellare un bagno da 0, e questo è il caso base. Se io è uguale a 1, mi rimane un bagno lungo 1, quindi vuol dire che ho fatto la scelta della piastrella lunga n-1, e così via. Tra l'altro, proviamo a calcolare qualche valore, tipo f di 1 cosa sarà? Ce n'è solamente... f di 1 cosa sarà? Sarà 2, tendenzialmente, sì. Perché è la sommatoria da 0 a 1, quindi c'è 0 e 1... No, perdono, 0 e 0. Ok, c'è qualcosa che non mi torna. Perché piastrellare un bagno da 2 ci sono due modi. Perché o facciamo 1 e 1, oppure facciamo 2. Ok. Quindi sappiamo che f di... Ah, perdono, perché è f di 1? Scusatemi. Perché è f di 1, f di 1 effettivamente c'è solo un modo. Perfetto, quello che stavo confondendo è perché è f di 2 quello là. Ok, f di 2 dicevamo, quindi chiamo f di 0, chiamo f di 1. 1 è 1, 1 più 1 fa 2. Perfetto. F di 3. F di 3 cosa abbiamo? De facto quello che stiamo facendo è sommare tutti quanti i valori precedenti ogni volta. Se notate, per questo sommatorio è f esattamente quello. F di 3 farà quindi 4. F di 4 farà quindi 8 e così via. Tra l'altro, notate, interessante, che se continuate a espandere questa funzione per vedere quali sono i valori, tipo f di 5 sarà 16, f di 6 sarà 32. Qua si può notare empiricamente che f di n per, a parte, facciamo finta che non esiste il caso 0 per ora, f di n è uguale a 2 alla n-1, se non erro. 2 alla 0 fa 1, 2 alla 1 fa 2, 2 alla 2 fa 4 e così via. In questo caso capita che esce fuori addirittura una formula chiusa per risolvere questo problema. E' abbastanza... cioè non è così scontato che possa uscire fuori una formula chiusa? In questo caso esce. Bene, questo era come si risolveva questo problema qua. Posso cancellare tutto. Ok. Ah, piccola nota a margine per ieri. Ieri abbiamo fatto, se vi ricordate, in quanti modi diversi, in quanti ordini diversi posso disporre n elementi. Le ho chiamate per mutazioni. Una cosa che mi sono dimenticato di dire è che normalmente quella f di n che abbiamo descritto ieri ha una notazione matematica standard che è n con un punto esclamativo dopo. Questo si chiama n fattoriale. Ed è quella funzione che abbiamo calcolato ieri, ovvero 1 fattoriale è uguale a 1 e n fattoriale è uguale a n per n meno 1 fattoriale. Ok. Questa era la ricorrenza che abbiamo fatto ieri. Tra l'altro, anche qua, in realtà possiamo fare la stessa osservazione filosofica di oggi e dire che i modi in cui posso ordinare 0 elementi sono 1 e tutto funziona uguale. Però almeno così viene definita la funzione anche per 0. Quindi ora abbiamo una funzione definita su tutti i naturali. Ok, questa era una piccola nota margine di quello che ci eravamo detto ieri. Bene, affrontiamo un altro problema. Facciamo un altro problema. Allora, il problema è questo. Abbiamo una griglia che ha n celle in altezza e m celle in lunghezza. Quindi una griglia n per m. In questo caso n è uguale a 5, n è uguale a 4. Allora, facciamo finta che partiamo dalla cella più in alto a sinistra e vogliamo arrivare alla cella in basso a destra. e partendo dalla cella in alto a sinistra possiamo o muoverci a destra così ad esempio oppure muoverci in basso. Ok, possiamo fare questi due tipi di mosse o muoverci a destra o muoverci in basso. Inutile dire che ad una certa qualunque strada prendiamo saremo forzati ad una certa a fare solo mossa in basso o solo mossa a destra per arrivare in fondo. Ok, la domanda è in quanti modi diversi quindi quanti percorsi diversi esistono che partono dalla cella di partenza e arrivano alla cella finale. Ok, il problema è chiaro? Questo è il problema se non è chiaro scrivete che in questi momenti cerco di leggere questo è il problema che stiamo cercando di risolvere e lo cerchiamo di risolvere nel modo in cui l'abbiamo fatto finora cerchiamo di trovare i casi base e trovare la ricorrenza e così abbiamo risolto il problema. Bene pensateci cominciamo a pensare la prima cosa che si pensa sono i caso base qual è un caso talmente semplice che sappiamo risolvere in modo arbitrario se qualcuno pensa se qualcuno pensa di avere la soluzione scriva qualcosa in chat così gli do la parola pensateci pensiamo un caso base qualcosa una griglia che è talmente piccola o insomma qualcosa che è talmente semplice che sappiamo dare la risposta in modo arbitrario nel caso ci sia una tabella uno per uno mi dice qualcuno nel caso ci sia una tabella uno per uno quindi magari con un colore che non sia il rosso ok nero quindi f di uno uno ok beh in quanti modi possiamo raggiungere in quanti modi possiamo raggiungere la fine partendo dall'inizio stando fermi questa è la stessa domanda filosofica di prima uno stando fermi non ci sono altri modi bene questo è un caso base ce ne serviranno altri boh non lo possiamo veramente sapere finché non abbiamo trovato la ricorrenza generica quindi la prossima cosa che vogliamo fare è trovare la ricorrenza generica quindi questa f di nm se siamo se abbiamo una griglia di dimensione arbitraria come come dicevo prima dobbiamo provare a fare tutte le scelte ok ci troviamo in un punto cerchiamo di fare tutte le scelte ok qualcuno che vuole provare a dirmi ok lo prendo ah ok qualcuno che sta parlando ah tra l'altro facciamo così identificatevi quando parlate almeno così so chi siete va bene sono Stefano Carra perfetto dimmi ok stavo pensando se ci sono due due mosse da fare all'inizio se si va a destra ci si ritrova come se fosse nella prima nella casella di partenza di un'altra griglia n per m-1 ok al contrario se si va in basso si trova in un'altra griglia n-1 per n perfetto grazie allora ripeto un attimo però era spot on il fatto che se noi partiamo da una cella abbiamo due scelte possiamo andare a destra o andare in basso non ce ne sono altre quindi il numero di percorsi che avremo per arrivare alla fine sono quelli che fanno la prima mossa andando a destra più quelli che fanno la prima mossa andando in basso ma quanti saranno quelli che fanno la prima mossa andando a destra come diceva giustamente andiamo se mi ricordo bene il nome Stefano credo sì perfetto se andiamo a destra beh ci siamo levati una colonna ma allora se andiamo a destra è come dire f di n virgola m-1 perché ci siamo levati una colonna più se andiamo in basso invece è come se ci fossimo levati una riga quindi f di n-1 m ok abbiamo la nostra ricorrenza funziona mi sa di no mi sa di no proviamola con una 1x2 ok quindi abbiamo m che è uguale a 1 ed n n che è uguale a 2 quindi abbiamo f di voglio anche calcolare f di 2-1 f di 2-1 cos'è? è uguale a f di 2-0 più f di 1-1 f di 1-1 lo sappiamo fa 1 perfetto stupendo e f di 2-0 è un problema il caso 0 non ce lo stiamo gestendo perché? perché? perché abbiamo fatto l'implicita assunzione quando abbiamo detto andiamo a destra o andiamo in basso che esistesse un destra o un basso ok e quindi stiamo assumendo che con questa ricorsione generica stiamo assumendo che n è maggiore o uguale a 2 ed m è maggiore o uguale a 2 perché se no non esiste un destra o un basso allora dobbiamo sistemare le cose o dobbiamo fare tutti i casi base per questa cosa qua cioè in modo che non valga mai che n è maggiore o uguale a 2 o m è maggiore o uguale a 2 e questo è un modo di gestirlo oppure dobbiamo cambiare le assunzioni della ricorsione generale del passo generale proviamo a risolvere questa cosa in entrambi i modi quindi il primo modo che abbiamo è che non vogliamo mai vogliamo avere tutti i casi base per cui non vogliamo mai che possa capitare questa cosa ok quindi cominciamo se non vogliamo mai che capiti allora intanto non potrà mai capitare che sono entrambi minori di 2 perché abbiamo già il caso base 1-1 è l'unico caso in cui entrambi sono minori di 2 ok e quindi il caso base ce l'abbiamo adesso proverò a fare una cosa che non ho mai provato a fare perché vorrei spostare questo qua più in basso uh bellissimo stupendo perfetto ok allora dicevo quindi entrambi non possono essere mai minore di 2 l'abbiamo già gestito quel caso ora vogliamo gestire il caso in cui sia il primo solo il primo che è minore di 2 l'altro invece assumiamo sia maggiore o uguale a 2 quindi in questo caso cosa abbiamo abbiamo una riga ok beh in quanti modi partendo dall'inizio di una riga abbiamo da arrivare in fondo alla riga ne abbiamo solo uno possiamo solo andare a destra non potremmo mai fare nessun altro tipo di mossa possiamo sempre solo andare a destra quindi c'è solo un modo analogamente se noi abbiamo n per 1 se noi abbiamo un graniglio n per 1 fa sempre 1 perché questa volta non abbiamo una riga ma abbiamo una colonna e se partiamo dall'inizio e vogliamo arrivare in fondo non possiamo fare altro che andare verso il basso e quindi fa sempre 1 ok e in questo modo abbiamo sistemato questa ricorsione perché adesso se rifaccio quella di prima che era quindi f di 3,2 se non mi ricordo male avevo fatto non mi ricordo però adesso lo scopriamo no non avevo fatto f di 3,2 avevo fatto f di 2,1 esattamente quindi f di 2,1 adesso in realtà è già un caso base perché f di 2,1 è questo qua è f di n,1 e sappiamo già che la risposta è 1 stupendo facciamo facciamo un f di 3,2 ok f di 3,2 adesso ho ho il potere dello spostamento sulla lavagna bellissimo f di 3,2 cosa sarà? non siamo in questo caso base non siamo in questo caso base non siamo in questo caso base allora dove siamo? siamo nel caso generale perfetto quindi sarà f di 3,1 più f di 2,2 ok f di 3,1 è un caso base è questo qua è l'n,1 quindi sappiamo che fa 1 dobbiamo calcolare f di 2,2 f di 2,2 come sarà? sarà f di 2,1 più f di 1,2 sono entrambi casi base perché sono i due in mezzo questo fa 1 questo fa 1 quindi f di 2,2 fa 2 sostituiamo qua questo fa 3 verifichiamolo quindi abbiamo 3 righe e 2 colonne ok e vediamo in quanti modi possiamo fare dovremmo trovarne solo 3 spero vivamente che ne troviamo solo 3 allora un percorso è questo un percorso è questo e giustamente ce ne sono un altro di percorso che è questo non esistono altri percorsi sono 3 e infatti abbiamo trovato come risposta 3 bene questo era un modo di sistemare la ricorsione ma non è l'unico come vi ho detto prima l'altro modo invece è di cambiare un po' le regole del gioco diciamo cerchiamo di dare un senso più broad a questa però la metto qua dare un senso più broad al problema ovvero ammettiamo che esista ammettiamo che si possa ammettiamo che esistano le griglie zero per qualcosa in realtà non cambia tantissimo effettivamente perché comunque ho magari in nero 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 eccolo qua comunque ho il caso base f di 1 1 uguale a 1 perché se sono arrivato devo segnarmelo sì non è tanto più interessante perché quello che volevo fare era f di 0m e f di n0 cioè sto dicendo invece di avere una griglia 1 per n ho una griglia 0 per m invece di avere 1 per m o 0 per m invece di avere n per 1 o n per 0 se ho questa qua è un po' un anche questo è un po' filosofico se ho una griglia inesistente allora non posso farlo e quindi do 0 matematicamente questa cosa funziona in modo uguale cioè darà comunque 3 come risposta lo controlliamo molto velocemente ma quindi cos'è f di 3 1 più f di 2 2 ora questo non è più un caso base quindi dobbiamo calcolarlo quindi abbiamo f di 3 1 che è uguale a f di a cosa uguale è uguale a f di 3 0 più f di 2 1 ok questo qua fa 0 perché è un caso base è il 3 0 dobbiamo calcolare f di 2 1 quindi f di 2 1 allora sarà uguale sarà uguale a f di 2 0 più f di 1 1 ok questo fa 0 caso base questo fa 1 perché è caso base quindi torniamo su questo fa 1 e notate già che f di 3 1 che è il nostro caso base di prima ce lo siamo trovati fa ancora 1 ok f di 3 2 abbiamo calcolato questo termine sappiamo che fa 1 abbiamo calcolato f di 2 2 f di 2 2 a cosa sarà uguale sarà uguale a f di 2 1 più f di 1 2 nessuno di questi due casi base adesso non continuo ma vedete tranquillamente che il prossimo step un termine fra 0 l'altro farà 1 quindi questi qua fanno entrambi 1 quindi questo qua fa 2 e quindi abbiamo riottenuto la risposta che era 3 questo è un altro modo di vederlo cioè se facciamo una mossa invalida perché se finiamo con un 0 abbiamo fatto una mossa invalida allora quel percorso ci dà se quel percorso ci dà 0 percorsi perché abbiamo fatto una mossa invalida questa è un po' l'idea che c'è dietro bene ok ci sono domande su questo problema e questa soluzione guarda la chat sì io avrei più che una domanda una precisazione perché certo calcolando una tabella con più di 3 quadretti cioè 3 o più sì io comunque posso scendere poi risalire cioè in tutti gli esempi si sta calcolando il caso con meno spostamenti giusto beh ma il problema io l'ho definito come posso spostarmi solo a destra e in basso cioè il problema era proprio dato come parto da in alto a sinistra voglio andare in basso a destra e mi posso solo spostare a destra in basso sì ovviamente se il problema fosse stato che invece potevi spostare in tutte e quattro le direzioni allora tutto quello che stavano dicendo non era valido però il problema era tipo spostare a destra in basso ok va bene grazie perfetto mi ricordi chi sei che almeno così poi mi ricordo io sono un ascanio te sei ascanio perfetto ok bene ci sono altre domande su questo lo prendo come un no allora vi dico una piccolissima ultima cosa e poi per oggi abbiamo finito allora adesso noi vogliamo fare tre stetto in questo corso in questo momento stiamo cercando soluzioni corrette ok in questo momento ci interessa solamente la correttezza non ci interessa altro ci interessa solo che la funzione ci dia la risposta corretta ok e è la cosa più importante cioè questi tre step che adesso vi dico sono comunque io perlomeno li uso ancora ogni volta che faccio una gara di informatica di programmazione competitiva sono i tre step mentali che ho la prima domanda è la mia soluzione è corretta perché se non è corretta di cosa stiamo parlando il secondo step che è quello in cui di cui cominceremo a parlare domani è quello della complessità e per complessità non intendo quanto è quanto sia difficile il non quanto sia difficile la soluzione ma quanto è efficiente e infatti si chiama complessità computazionale in un qualche senso è la complessità per il computer ad eseguire questa soluzione cioè quanto ci costa in termini di tempo eseguire questa soluzione quindi la prima cosa che ci interessa è se è corretta in un qualche senso la seconda cosa che ci interessa è se è veloce ed è quello di cui inizieremo a parlare domani la terza cosa è scrivere il codice quindi scrivere l'implementazione molte volte capita spesso tante persone che prima ancora di avere la soluzione si mettono a scrivere secondo me è un approccio che non funziona bene cioè seguire questi step mentali avere come dicevo ieri un metodo per trovare le soluzioni in un qualche modo sistematico che ovviamente poi per trovare soluzioni nei problemi man mano che diventano più difficili ci vuole anche tanta fantasia però avere un metodo che ti guida in qualche modo a vedere se stai facendo gli step corretti se hai tutta la checklist a posto ti porta a non commettere errori man mano che vai avanti nella ricerca nel creare la tua soluzione quindi la prima cosa che ci interessa è se l'algoritmo è corretto seconda cosa che ci interessa è se l'algoritmo è veloce se la sua complessità computazionale è decente e terza cosa come facciamo a implementarlo l'implementazione di questo algoritmo domani parliamo facciamo accenni di complessità computazionale quindi come valutare la complessità computazionale delle nostre soluzioni detto ciò detto ciò per oggi è tutto Grazie.